fratelli juventini sorelle juventine ma soprattutto finti juventini e finte juventine questo è il vostro video dei secondi non dei primi dei finti juventini che sono tantissimi tantissimi che si sono per juventini ma ti fanno sicuramente altre squadre fanno i furbi ma non è che ci vuole la laurea in ingegneria elettronica capire che non siete juventini perché se siete juventini siete dei buffoni se siete juventini non credo siete dei buffoni perché siete dei buffoni perché dovete fare pace col vostro cervello se siete juventini ma non credo quindi io non sto offendendo nessun juventino sia chiaro perché soltanto un non juventino può dire queste semplici cose pareggiamo contro l'udinese che schifo di juve scesni fa schifo è un portiere di merda perdiamo con l'empoli che schifo di juve e c'erano anche i titolari che allenatore di merda che schifo fa schifo la juve vinciamo col malmo non è la juve che ha giocato bene o che è forte no che schifo di malmo che schifo di malmo che schifo di squadra pareggiamo col copenhagen che schifo di juve che schifo di juve pareggiamo con l'elsinburg ai tempi di conti mi riferisco che schifo di juve perdiamo col galatasaray è colpa del campo è colpa di qui è colpa di là vinciamo con il barcellona ma non è mica più il barcellona di una volta assolutamente assolutamente il ritorno alla andata il barcellona vince a torino hai visto con le squadre forti da juve fa schifo fate pena fate semplicemente pena chiunque voi siate ripeto chiunque voi siate perché secondo me non siete juventini voi non capite un cazzo di calcio va bene proprio un cazzo di niente sapete cos'è un cazzo esatto voi non capite un cazzo di calcio ok perché voi parlate sempre dopo sempre dopo si giocava morata vincevamo si giocava king vincevamo si giocava pincopallino vincevamo abbiamo perso perché ha giocato tizzecaio ma cosa ma sono tutti capaci di parlare dopo ma parlate prima ma parlate prima che prima di valmo juventus tutti quanti i juventini avevano detto che speriamo di vincere ci accontenteremo anche i veri juventini i veri juventini difatti i veri juventini quando poi abbiamo vinto sono venuti sotto a commentare e hanno scritto che bello è andata bene sono contento meno male dai che forse ci rialziamo perché è così che deve essere il tifoso si abbatte ma poi subito come un lampo si rianima quando la propria squadra vince lo fanno i tifosi delle squadre che lottano per non retrocedere figuriamo la juventus che è una vita che lotta per vincere scudetti e tenta di andare avanti in champions league perché l'unico accettivo che posso usare è tentare nella champions league per la juventus ok quindi non hanno né capo né coda ai vostri commenti le vostre idee sono assurde sono assurde dovete decidervi se l'empoli il malmo l'udinese sono sullo stesso livello e ci può stare e ci può stare va bene delle due luna o è la juventus che ha fatto schifo o la juventus è giocato bene quando vince ha giocato bene la juve e quando ha perso ha fatto schifo altrimenti non si può spiegare che vince ed è scarsa l'avversaria perde fa schifo la juventus capite lo capite non è difficile il concetto è lo so che bisogna collegare dico sempre ai non juventini sia chiaro che è difficile collegare due neuroni contemporaneamente nelle sinapsi e andare a fare un concetto esprimere un concetto e capire un concetto soprattutto non è facile non è facile non è facile sono contento guardate sono contento che questo video sia stato fatto anche da altri youtuber tra cui il mio amico l'egentario alex ai quali ho fatto i complimenti perché un gran bel video sono contento che anche altri l'abbiano pensata come me perché sinceramente questa è una situazione che non se ne può più è ora di finirla è ora di finirla il grande milan che tutti quanti state aspettando domenica che si deve asfaltare a torino e secondo me non ci asfalterà bene ve lo dico prima ve lo dico prima ne parlerò poi sabato mattina o domenica mattina nel gormone domenica mattina non c'è il good morning quindi lo farò sabato mattina nel gormone juventus secondo me non ci asfalterà ok ieri sera il milan sul 2 a 1 che milan che milan tutti quanti commentavano avete visto il milan il milan qui il milan la dna mila e poi ha perso è sparito il dna nell'arco della partita è passato ad avere il dna champions non avercelo più l'inter come gioca bene l'inter leggevo i messaggi no che inter che inter altro che io altro che io prima azione decente del real madrid perso come al solito perché l'inter perde sempre con le squadre forti in champions league storicamente a meno che ci siano gli arbitri compiacenti o altre cose quindi signori ma di cosa state blatterando non parlando blatterando blatterando se la juve perde se la juve perde ok con squadre mediocri è ovvio è ovvio che ha dei problemi è ovvio dei problemi ma se la juventus vince con una squadra mediocre cioè l'equazione rimane fissa la condizione se ne può no rimane fissa cioè l'avversario è scarsa e la juve vince vuol dire che la juve ha giocato meglio giusto perché non può essere scarsa quando perde e essere scarsa ma fortunata perché l'avversario è scarso cioè non c'è una logica nel vostro ragionamento non esiste una logica nel vostro ragionamento un conto è dire la juventus perde con le grandi e vince con le piccole allora lì ci potremmo anche stare come ragionamento ma non è così perché la juventus è capace che ti batte il milan domenica capite è capace che ti batte il milan domenica a napoli non la considero neanche l'ho detto anche dell'analisi post partita dove io sono stato anche abbastanza severo con alcuni giocatori ma non c'erano sette titolari mancavano sette titolari più ci si è messo scegli che ha fatto un'altra papera come come il suo solito ultimamente e quindi come se voi avessimo giocato con con senza otto titolari perché scegli se sta bene è un gran portiere se sta bene se lucido quindi signori è inutile è inutile io lo so che è bello poter commentare i social hanno dato voce a cani e porci le tastierine sono lì pronte a portata di mano con tutte le lettere dell'alfabeto italiano però se dovete venire a scrivere delle stronzate e sicuramente non siete juventini ma andate sui canali dei vostri youtuber delle vostre squadre del cazzo ok delle vostre squadre del cazzo che quando voi avrete vinto 38 scudetti e fatto 9 champions facciamo parlarne ok io mi metto a parlare con i milanisti con i milanisti posso avere uno contraddittorio perché mi ha vinto 7 champions mi ha fatto 11 finali quindi ha fatto più finali di noi ne ha perse 4 ne ha vinto 7 noi ne abbiamo vinto 2 ne abbiamo perse 7 quindi con quelli posso anche fare un discorsino e stare anche ad ascoltare ma gli altri tifosi di altre squadre per cortesia per cortesia se venite per ascoltare quello che dico vi interessa bene ma se dovete venire a scrivere stronzate e soprattutto a spacciarvi per i juventini a spacciarvi per i juventini non va bene ma attenzione se siete juventini se siete juventini se siete juventini e dite queste stronzate io ve lo dico con tutto il cuore veramente il calcio non fa per voi non fa per voi siete il classico commentatore da bar che c'è il sole dice che bello c'è pioggia che schifo poi dopo il giorno dopo che c'è il sole che caldo la pioggia ah che fresco cioè fate pace col cervello decidetevi decidetevi prendete una linea di condotta di pensiero e portatela avanti ok se la juve vince contro una squadra mediocre va bene dopo che ci ha perso con una squadra mediocre vuol dire che sta migliorando è una cosa logica l'evoluzione ce lo insegna la vita ce lo insegna ok non è che è un tutto un casus belli tutto un casus è ok la juventus è una squadra che è in riarmo come si suol dire bene come una vecchia corazzata una vecchia torpediniera o una vecchia portere della guerra della seconda guerra mondiale che deve essere ristrutturata perché perché ha avuto tante battaglie alcune le ha vinte molte le ha perse e la stanno ricostruendo e chiaramente ogni volta che tu riparti da zero hai sicuramente dei dei colpi a vuoto e colpi a vuoto sono stati udinese e empoli ma a malmo che poteva esserci un terzo colpo a vuoto contro una squadra mediocre non c'è stato quindi accusiamo la juventus di gioco scarso e mediocre ad agosto ad agosto che il calcio il calcio d'agosto è tutta un'altra cosa e parliamo di una buona juventus non dico splendida contro il malmo adesso abbiamo delle belle partite perché in poco tempo avremo il milan e il celsi che sono due squadre forti e quindi vediamo il vero valore della juventus e soprattutto il lavoro che farà allegri ma adesso basta adesso veramente basta parlare sempre dopo parlare sempre dopo